Nonostante le nostre debolezze, Lui ci guarda, Lui ci fissa, Lui ci ama. Allora, fratelli miei, quando noi diciamo martire, diciamo testimone. Testimone di che cosa? Testimone della fede. Ieri è iniziata anche la novena, in preparazione alla solennità dell'Immacolata Concezione. La Vergine Maria è stata una testimone del Vangelo, una testimone dell'amore di Gesù. Lei che lo ha concepito nel suo grembo virginale, che lo ha partorito, che ce lo ha dato e lo vedremo nel Natale. E allora noi ci rivolgiamo a Lei, alla Madre, chiedendo a Lei questa grazia. O Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, aiutaci ad essere testimoni autentici del Figlio tuo. Amen.